Buonasera Fabio, buonasera ai telespettatori del Tg8 per il consueto bollettino dei dati Covid che sono stati forniti dalla regione Abruzzo. 279 nuovi casi positivi nella nostra regione su 4.675 tamponi, 7 purtroppo le persone decedute alla più giovane di appena 47 anni, più 331 i guariti rispetto a ieri, il tasso di positività tra tamponi molecolari e antigenici è del 2.4%, per quanto riguarda gli ospedalizzati 443 ricoverati numero invariato, 45 più 1 i ricoverati in terapia intensiva, 10.499 sono in isolamento domiciliare, meno 60 rispetto a ieri, il numero maggiore di casi oggi si è registrato, delle province di Chieti a Pescara, gli attualmente positivi in regione sono 10.987, i guariti in totale 27.478.